Conto alla rovescia per la seconda edizione della ciclovia del gusto Alte Marche WeBike, la rassegna in programma dal 24 al 27 ottobre. Come nasce questa iniziativa e in che cosa consiste? Un evento volto a valorizzare la ciclovia delle aree interne, ossia una ciclovia che tocca tutti i comuni delle aree interne, sette comuni della provincia di Pesaro e due fuori provincia, basata principalmente sul gusto. Quest'anno sarà al femminile, quindi ci concentriamo sulla parte del bici woman e appunto come dicevo è rivolta a quello che è la valorizzazione dei prodotti tipici locali, quindi si abbina lo sport al territorio, alla promozione del territorio, a quello che è la principale etichetta delle aree interne, ossia il gusto. Un'opportunità anche per fare del buon turismo? Assolutamente sì, la bicicletta è un mezzo fondamentale per fare turismo nelle aree interne e tutti i tipi di bicicletta, dalla strada alla gravel, alla mountain bike, addirittura anche fuoristrada a downhill. Ricordiamo le date e come partecipare? Sì, saranno la prossima settimana dal giovedì alla domenica, quindi ci saranno delle ragazze che percorreranno la ciclovia e poi si fermeranno nelle varie tappe dal giovedì sera alla domenica in tutto il territorio delle Alte Marche, quindi in tutti i comuni dell'Unione Montana, oltre Piobbico, Sassoferrato ed Arcevia.